Buonasera e benvenuti alla rubrica dei 5 minuti del Bologna, una rubrica di quelli del pallone sicuramente la più seguita e la più interessante della rubrica. Parleremo di questa ultima sconfitta del Bologna in breve appunto, forse anche meno di 5 minuti. C'è poco da dire, faccio un po' fatica a parlare perché, insomma, finita da poco la partita. Il riassunto è questo, che il Bologna, la nostra squadra, manca di quel qualcosa che le squadre più di alta classifica hanno. E non penso che ci possa arrivare per adesso perché l'Atalanta, che seppur ha giocato peggio del Bologna, ha fatto due azioni facendo entrare Boga che ha cambiato la partita. L'altro attaccante che ha giocato bene comunque tutta la partita ha cambiato il risultato. Noi abbiamo fatto una fatica matta ad arrivare vicino alla porta, nonostante abbiamo espresso un gioco forse a tratti migliore. Però la differenza sta tutta lì. Noi non abbiamo cambi, abbiamo sofferto il fatto che ci siano mancate due punti di riferimento, in particolar modo Arnautovic e il suo sostituto Zilkse. Abbiamo giocato con Sansone, che poverino ci prova, ma non è molto del mestiere. Cioè, oddio, ha fatto quello che poteva, secondo me ha fatto anche di più, non è che non pecca di impegno. Attenzione, non pecca di impegno. Ero in una posizione sicuramente non congeniale a quelle che sono le sue caratteristiche, ma è pur vero che per stoppare un pallone e fare qualcosa di buono ci mette comunque 5-6 tocchi. Può essere tecnico quanto ti pare, ma alla fine dei conti, la maggior parte dei casi ha sbagliato la scelta. Bene Orsolini, Dominguez insieme a Darnato ci sicuramente è il giocatore che può andare, può ambire ad andare in squadre più forti del Bologna. Ma le cambi avrei tenuto Soriano, perché Soriano, contrariamente a quello che ho sentito in radio, nella radio dei tifosi bolognesi, che l'hanno criticato come peggiore in campo, secondo me è sempre un valore aggiunto per la squadra, è un giocatore tecnico, sa tenere palla. Cambiarlo è stata una scelta soprattutto per Ebicer, che ha fatto malissimo su quella fascia di campo. È stato un errore, avrei messo lui, punta centrale al posto di Sansone, se non vuoi mettere dentro Raimondo, e avrei tirato fuori Sansone, che da un certo punto non aveva più senso tenere dentro. Metti Soriano punta e poi sulla sinistra la posizione ideale è quella di Vignato, ma Vignato è fuori rosa, perché è destinato ad essere, insomma, oggetto di mercato, però a sto punto tiene Sansone lì sulla sinistra. Ebicer non ha senso. Avrei messo Ebicer solo cambiando Orsolini, che a un certo punto secondo me poteva essere anche cambiato, nonostante il bel gol. Non capisco questo ostinamento nel mettere Cambiasso anziché Cassius, soprattutto sulla destra. Non capisco perché un giocatore come Cambiasso possa essere più determinante di Cassius. In quel momento aveva bisogno di spinta e Cambiasso è impreciso, soprattutto sulla fascia che, diciamo, è meno di competenza rispetto alla sua... dove gioca più naturale, insomma. Tutto sommato una bella prestazione del Bologna, peccato per questa sconfitta, peccato per la sconfitta con la Roma. Insomma, i passi in avanti ci sono, manca la concretezza davanti, perché... Puoi toccare la palla quando ti pare, ma se non arrivi a concretizzare quanto di buono fai, purtroppo questi sono i risultati con le squadre più forti di De. Il De Talande ha fatto due azioni e ha fatto due gol. Noi abbiamo tenuto il pallino del gioco, ma non siamo mai arrivati alla conclusione in maniera pericolosa, se non poche volte. Questo è il mio pensiero della sera, pensiero da tifoso bolognese. Auguro a voi tifosi bolognesi una buona serata e ci rivediamo presto sulle prossime rubriche di Bologna in 5 minuti o 5 minuti di Bologna, come preferite voi. Va bene? Arrivederci e tante belle cose. Buon Natale e buon anno.